buongiorno a tutti ci troviamo a dino in questo appartamento tra i mezzi locali con l'accesso al pian terreno subito dopo l'entrata abbiamo un ampio bagno con specchiera doppio lavabo bdvc e una vasca con la doccia all'esterno sempre sull'entrata abbiamo adesso coperto abbiamo un appendi abiti procedendo diritti accediamo l'ampia camera matrimoniale che appena stata ripiastrellata di fresco e da questa parte dalla camera letto ci posizioniamo direttamente sul terrazzo molto vivibile molto ampio di circa 20 metri quadrati dove si possono organizzare grigliate dove si possono organizzare cene con amici senza nessun problema dal terrazzo si può entrare anche nella zona soggiorno come vedete è un appartamento molto luminoso in una zona molto tranquilla di dino voglio ricordare che questo appartamento avviene viene affittato parzialmente arredato c'è la possibilità dalla zona soggiorno ci spostiamo verso la cucina dove troviamo un frigorifero nuovo forno vetro ceramica e anche la lavastoviglie che è appena stata sostituita da questa parte invece troviamo la camera singola con un'ampia vetrata che da sul parcheggio privato dell'appartamento l'appartamento viene in affittato compreso di cantina e posto auto se vi interessa questo fantastico luminoso appartamento di dino contattateci ti affitto